ecco qui sono il salutatore e ti chiedo un super saluto a tutti i tuoi fan un saluto al salutatore e a tutti i miei fan e ovviamente la manina del salutatore che ti regalo grande Fabio Roazza grazie mille per la manina del salutatore che mi hai regalato grazie è un onore salutiamo tutti i salutatori grazie viva dai due ciao